45 anni fa un piccolo gruppo di visionari ha fondato la FIAIP. Insieme hanno saputo dare vita a un sogno che dura ancora oggi. Insieme abbiamo percorso un lungo cammino. Insieme abbiamo sconfitto le avversità. Insieme abbiamo elevato il ruolo sociale della categoria. Insieme ogni giorno abbiamo saputo fare squadra. Sono passati 45 anni e ancora oggi insieme difendiamo gli stessi valori. Insieme abbiamo costruito una grande associazione. Insieme ieri, oggi, domani. FIAIP. Insieme. Il futuro della categoria ha 45 anni di storia. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Insieme. Viva la FIAIP.